O se nasce una bella, bella dai monti a un mare, mi scende le parole, per noi che deve cantare. C'è il palazzo antico, un'emigrazione a sé, e c'è perché travaggia gli scanni, con un'emigrazione a me. Sì, questa è una bella giornata di festa, qui vedete la Targa in Ardesia, sala di rappresentanza Liguri del mondo, è una sala dalla quale si vede una vista spettacolare sul porto di Genova, è un po' simbolico, è il luogo da dove tanti Liguri sono partiti, hanno parlato di Liguria in ogni angolo della terra, portando con sé malinconia, portando con sé però dei ricordi, profumi e sapori che ci hanno fatto conoscere anche in altre terre. Quindi era giusto ricordarli, grazie anche alle associazioni molto impegnate per far mantenere queste radici profonde al di fuori della nostra Liguria, questa è un'iniziativa condivisa dall'intero Consiglio regionale, un momento che unisce. Quindi grazie al Presidente qui vicino a me, al quale cedo la parola, e che con lui rinnoviamo questo impegno di essere dalla parte dei Liguri del mondo. Grazie, intanto ringrazio la Regione Liguria per questa iniziativa unica, perché avere intitolato un'aula e messa a disposizione di tutti i Liguri nel mondo è un fatto molto significativo. E come dicevo prima all'inizio, questo è un punto di partenza per cercare di mantenere vive non solo le nostre tradizioni e la nostra cultura, ma i legami di affetto e di riconoscenza che dobbiamo avere in quelli che hanno portato civiltà, cultura, lavoro in tutto il mondo. Non parliamo per esempio della Lirica, dove siamo stati il numero uno da tutte le parti. Grazie, grazie alla Regione, grazie al Vice Presidente Sonia Bianchi.